Ma bello a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovissimo video Lo so avrete già notato un'inquadratura diversa e avete sicuramente notato questa sedia qui che non è qui a caso Ma bensì oggi sono qui per presentarvi per la prima volta qui sul canale youtube La signorina Croatomist Un applauso Sei bellissima Guarda che buco Che buco No si scherza Ci dissociamo? Per favore Ok ora posso sedermi Ok ci siamo Sei bellissima posso dirtelo che sei bellissima Grazie mille ma perché mi stai leccando il culo così tanto? Perché Come dire sei qui per una cosa un po' particolare Infatti non ho capito perché sono qua in realtà Te lo devo dire adesso è solo che ho un po' paura della tua reazione ecco Allora signorina Martina sei qui per una sfida Una sfida che in realtà farò io su Fortnite E fin qua tutto normale no? Sembrerebbe Peccato che per ogni kill che farò E tu dirai tanto ne fai poche no tra yarderò Ogni kill che farò mi dovrei dare un bacio Un bacio qua Sulle labbra No te lo do sulla guanta Ma sei fuori Qua sulle labbra Allora noi non siamo come tutti gli altri Noi non è che facciamo le cose così tanto per Noi le facciamo bene quindi kiss si danno qua Ma io te lo do qua sulla guancetta E invece tu me lo dai sulle labbra Ma col cazzo? E invece E invece sei Ancorata qui su questa sedia E mi accompagnerai in questa sfida E soffrirai in silenzio Va bene Va bene Va bene Quindi ogni kill un bacio Ogni kill un bacio Tanto ne fai zero quindi a posto No avrò il Gatorade L'asciugamanino Tra yarderò Li ucciderò tutti E mi darai miliardi di baci Ammazzare i bot non vale? No Ammazzare i player ovviamente Poi volevo lanciare un'altra sfida ai ragazzuoli Però voglio che lo fai tu Allora Allora Per i ragazzi Se volete avere ancora il pisellino lungo E quindi volete rivedermi qui sul canale di Giorgia Perché io mi auto invito Dobbiamo arrivare a mille like Dillo bene urlandolo Mille like Madonna come sei moscia Mille like Così si urla Si ho capito Ma qua ci sono io Ci sono i miei timpani Mille like Comunque ora È giunto il momento di tryhardare Di vincere tanti bacini Quindi ci spostiamo su Fortnite E preparati a soffrire Va bene Ok ragazzi Siamo su Fortnite Pronti per partire in game Andiamo? No Allora Dobbiamo fare due cose importanti Negozio oggetti subito per favore signorina Si 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 Posso essere sincera Fa schifo Vai sull'armadietto Si Vai nei preferiti Ah nei preferiti Si Vai sopra Ok l'ho già vista Chi devo mettere Voglio Billy Billy l'alieno Si Ho pure la carattera che avete matchato Cioè è matchato come sono vestita io Ma mi tradisci con Billy? Mi ha fatto anche loser Si Mi ha fatto loser Allora Sentimi lì Sei carico Si Sei carico Bravo Dobbiamo vincere tanti baci Io qua e tu sulla tua pelata luccicosa Quindi andiamo Ok ora vi facciamo vedere quello che succede Quando ci sono dei pezzi di registrazioni Che non devono comparire nel video Che cosa vi facciamo vedere Quello che facciamo nei momenti d'attesa No? Parti del video che non devono uscire Ah questo è quello che non devo uscire Quindi posso fare anche una parte? Si La caga spu Tutta quanta sui bambini Lei non già sei Lei non già sei Mi distoggio Ok ragazzi ci siamo Sei pronta? No Sai dove scendo Pinnacoli? Ovviamente Perché a Pinnacoli c'è sempre un fracasso di gente Quindi significano tante kill Significano tanti baci Una kill e muore ragazzi Questa è la predizione No 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 è vero No 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 Mi impegnerò Comunque ferma Vi ricordo ragazzi che tutti i giorni Ci potete trovare a me e alla signorina Croato Misti Live Sul nostro canale Viola Dalle 16 barra 17 Trovate i link di entrambi in descrizione E ovviamente se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi sia al mio canale Che al suo e attivatele entrambe le campanelle Di per il senso Schiude 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 Ugude Ok Niente trovate tutti i social miei Di questa qui Tutto tutto giù Ok tutto in descrizione Vediamo magari trovo Ma sono finita in un buco No devi spaccare dietro Ah sì I container Sfaccali Questi qua Questa qua era la stanza Se ti ricordi Sì la so I container Ah c'è la porta C'è la porta Questa era la vecchia stanza Quella che su tilt ed non era mai stata finita C'era in lavorazione E hanno fatto la stanza del pizzaiolo Quanti segreti con Martina si scoprono ragazzi Guarda qua Tu vero è il mio fidanzato È il tuo fidanzato? Era Ah era? Sì E ora chi è il tuo fidanzato? Ehi Ah quindi sei un ragazzo C'ho il pisello io eh Nascosto Cazzo Saliamo c'è uno qua sopra Cento cento Ecco Ragazzi è un amore Pronti? Tre? L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Ferma 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 Madonna Billy Ma dove sta andando? È salito sopra L'hai visto? No È sotto lì davanti Fa cazzo Vai Billy Aspetta L'altro non ti serviva Sì Infatti non so perché Concentratissima ragazzi c'è Sì Pappa Godo Godo Se morivi Se morivi Dai bacetto Dammi un bacio No ragazzi C'ho una fase di eccitamento In questo momento No mi dissocio dai No prendo le distanze È Billy che è eccitato Non lo vedi? Con quella pelatina tutta da snorpare Poi con i boxer da banana Scusa vuoi mettere? No infatti è Facci una cercata con Billy Guarda come tu è Erco Ok Attenzione Billia a pinnacoli pendenti Il fatto di non poter billare Mi Mi Certo Volevo le pare Ah vai fai un pezzo rap Attenzione Billia a pinnacoli pendenti Vieni qui che ti spacco quei denti Sono fortissimo Un demone in calore Un demone Eccolo Eccolo Altro piss Altro beso Cos'era? Cos'era? Scusa Morivo subito Dopo questa kill Cioè dopo la prima Non sei morta solamente perché ho fatto la mia Raffata bellissima Ah e quella lì Ce l'hai fatto spaventare infatti Esattamente Ah che c'era là sotto? C'è un player Lì sotto Allora se sei una donna ti butti Billia Vai corri billi Lo sai che potete Ho paura Anch'io C'ha le C4 Hai detto se sei una donna Eh ma Hai pensato troppo danno Potevi andare nel corricione Signorina Attenzione sta curando Sinistra Ragazzi muo muore Sì è vero Ha le C4 Puoi sparargli E' lì E' lì per forza 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 No vabbè io non Io non reggo Ragazzi ho visto uno dei phase Uno phase vero eh Sì era vero Cioè sono così forte Era phase Mamma mia sono emozionatissima Era un phase Comunque sto sudando raga Sto sudando perché voglio tantissimi baci Fammi sentire l'odore Porca troia Belle caduose le ascelle Ma dooo Comunque Ma hanno sparato dalla giù Se non è Guarda c'è cammincino Il cammincino È lui È lui Allora ti spacca il culo Sì Però puoi ucciderlo Puoi ucciderlo Sì si puoi ucciderlo Ma io non mi rendere Ah è lì 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 Ancora ancora Ah c'è cammincino Ormai si sarà ben curato Il vecchio Eh ma lo uccidi tanto È qua sotto Eccolo Yoink Yoink Ho rischiato eh Ma ti poteva busciare quell'alto Guardi subito Bacetto Questo me lo prendo Questo me lo prendo Però ragazzi Mamma mia Non potersi Mi era sembrato di sentire Eh ma infatti Se non me c'è il tizio Vero Nascondite qualche pa Ah Davanti Non posso Non posso Non posso Non posso Non posso Puoi correre Vedi che ti vedi i piedi Sì Io mi nasconderei dietro l'albero Uh Cari Billy È un problema È un problema No 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 Ce la fai All'impulso in mano Penso Ok È un problema È un problema Mi caccia il tamburo però Te lo fai Te lo fai Te lo fai Sono troppo forte Guardate che te lo facevi Aspetta Va a entrare Mamma mia No Troppi baci ragazzi Troppi baci C'è troppi baci Per Queen Georgia qua Raga Sì però la sto viziando troppo Cioè basta Eh ma perché sono troppo Forte con la skin di Billy Lo sai che è la mia skin Non puoi farmi usare questa Cioè se vuoi Non darmi i baci Sì però non vale C'è anche io voglio avere i bacini da te Però che palle Ragazzi Cioè mi volete anche sul Cioè sul canale della Marti A dare dei baci anche a lei Ehi Fatecelo sapere Nei commenti Ma gli bacetti Eh te li do anche io Ma il problema Ok dammi le splash Ti prego Ti vedo incazzata Sì va C'è uno qua È sceso È morto anche lui L'ho ucciso L'ho ucciso Guardate Ci siamo auto uccisi Insieme Tutte e due Tipo Warzone Scusa ma quante kill avevo? Cioè quanti baci ho preso? Sette baci No sei baci No non te l'ha contata Ma erano sette baci Ah erano sette? Io ricordo che erano sei prima Sei prima della kill E sette dopo Solo che non te l'ha contata Perché siete morti insieme Ok Però aspetta No Ho ruttino Te lo giuro Ok Ma no Tocina Non ti bacio più Non ti bacio più Basta No come non mi baci più Come non mi baci più Comunque Cioè sette bacini Non è male No Direi proprio di no Non è male Bene ragazzi Se questo video vi piacete mi raccomando Lasciate un bel pollicione in su Ma quella è tua Ah è vero La mia devi fare Faccio io Aspetta com'era Allora bene ragazzi Siamo ormai giunti al termine Vai Ehm E devi fare questa parte Bene ragazzi Siamo giunti al termine E se il video vi è piaciuto No 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 Allora facciamo che faccio io Per questa volta Bene amici Siamo ormai giunti al termine Quindi mi raccomando Spolliciate Commentate come dei pazzi Noi ci becchiamo sabato In un nuovissimo video Bella ragazzi Fallo con me Uuuu Ciao Ciao Grazie a tutti.